Benvenuti ragazzi, siamo qui per giocare a Call of Duty Seconda Guerra Mondiale Episodio 2 Spero che vada bene, vi piaccia questa serie, se vi piace mi raccomando spolliciate di like e commentate con un continuo per farmi capire che vi piace seriamente e volete che vada avanti fino alla fine di questa serie quindi non perdiamo tempo e andiamo col primo day 16 giugno 1944 niente, partiamo immediatamente, dai! Ti prendo io! Cozzo! Non stiamo da sentire qui! Ti prendo io! Stai giù! Sono dal secco! Cazzo! Dini a prendere! Tocco a poco! Faccio! Presto! Presto! Ok, vieni, vieni qua! Medico! Mi serve il mortina! No, 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 non devi restare sveglio Ehi, Dengas, sono solo qui, aiutami Qualcuno mi ha messo subito un pedico Ci penso io, via Ho bisogno di te, Dengas Ascoltate, c'è un cannone GPS alla fattoria lungo la strada Sto ammazzando la spiaggia, frighiamoci Torneremo a prendere Controlla munizioni e granate Sentito, tutti in fratto, subito Arrivo Unizioni da da Mi servono col tenente Occhio, Daniels Non ti ho fatto fuoco appena arriviamo la fattoria Sto ammazzando la spiaggia Sto ammazzando la spiaggia No, no, no. Cut. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no, no.